Quando le emozioni viaggiavano sulla carta. La cartolina festeggia 150 anni. Era proprio l'ottobre del 1869 quando in Austria venne presentato questo cartoncino leggero e sottile che a breve sarebbe diventato il modo più semplice ed elegante per inviare un saluto alle persone lontane. Una storia durata un secolo e mezzo. Per anni la cartolina ha conquistato adulti e ragazzi. Poi l'avvento dei telefonini e dei social ne ha fortemente limitato l'utilizzo seppur il fascino e il romanticismo della cartolina scritta a mano magari in un luogo di villeggiatura resteranno per sempre unici. Molti collezionisti di cartoline che negli anni ne hanno accumulate a centinaia provenienti da tutto il mondo. Tra questi anche la proloco di Gallarate che nel tempo ha conservato numerose cartoline ritraenti una città dei due Galli in continuo cambiamento. Si parte dalla fine degli anni 50 quando ancora Piazza Libertà non era abbellita dalla sua fontana realizzata all'inizio degli anni 60 e quando perfino la Basilica di Santa Maria era priva della scalinata d'accesso. Una vecchia Gallarate rappresentata in questa cartolina si vede come la Piazza Libertà, l'attuale Piazza Libertà è completamente nuda e negli anni, solo negli anni successivi, arricchita con un arredo con la fontana. Un particolare ancora da evidenziare è la mancanza della scalinata per l'accesso alla Basilica. Anche questa si vede l'assenza della stessa in questa fotografia che documenta una Gallarate sicuramente di altri tempi però che ci piace ricordare. Una Gallarate lontana che ci piace ricordare quindi perché solo ripercorrendo la sua storia possiamo comprendere fino in fondo i cambiamenti che l'hanno caratterizzata negli anni, rendendola quella che oggi conosciamo.